Buongiorno a tutti da Gioia Emilia Romagna, qui siamo in Viale del Mille a Cesenatico. Ecco, vi faccio vedere questo cartello perché qui c'è un parcheggio dei disabili. Benissimo, adesso vi voglio fare vedere in che condizioni, qui a Cesenatico, è questo parcheggio dei disabili. Allora, se un disabile parcheggia questa zona con la sua macchina, quando scenderà dalla macchina si troverà poi a dover combattere con una tozza d'acqua in queste condizioni. Quindi voi ditemi un disabile in carrozzina come c'è anche un bidone a ridosso. Ecco, voi ditemi come fa poi un disabile quando scende dalla macchina perché poi c'è appunto albero, bidone, bossanghera, albero e bidone. Quindi un disabile deve riuscire a scendere dalla macchina e poi andare a ridosso della strada poi con la carrozzina perché vediamo che quando scende non c'è neanche poi la possibilità di una carrozzina di camminare perché qui poi parcheggiano le macchine. Quindi... 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 Un'altra puntata della nostra telenovela Il Ponte Mobile di Cesenatico. Anche oggi abbiamo fatto un bellissimo sopralluogo. Tutti da Johnny da Romagna siamo qui sul Ponte Mobile di Cesenatico. E... Guardate... 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.